Il centro di raccolta comunale di Agropoli diventa fruibile a tutti. Dopo l'inaugurazione dello scorso 4 agosto, i residenti a partire da oggi, lunedì 6 settembre, potranno recarsi presso il centro di raccolta di località Malaginia per conferire ingombranti già selezionati, sfalci di potatura e tutti i tipi di rifiuti riciclabili. Il punto di raccolta sarà aperto da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18.00. Una importante novità che consentirà di facilitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di limitare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato in strade ed aree verdi.